hai lavorato tutto l'anno sei stanco e vorresti andare in vacanza ma non puoi permettertela la tua auto è da rottamare ma i soldi non ci sono per una nuova non arrivi a fine mese ora c'è bombonsito e con lui in omaggio la denise card unica nel suo genere con la denise card puoi fare acquisti pagare l'affitto cambiare l'auto il pedaggio autostradale andare in vacanza alle maldive cambiare l'arredamento di casa il guardaroba pagare il carro attrezzi comprare gli arancini e tutto quello che hai sempre sognato ma che finora non potevi permettertelo inoltre la denise card è valida anche all'estero puoi fare acquisti in tutto il mondo cosa aspetti contatta subito il bombonsito al numero 12345678910 oppure contattalo tramite il sito www.bombonsito.it approfittane subito per avere la denise card edizione limitata per ora è tutto linea alla regia grazie marco in effetti la denise card ha conquistato il cuore delle donne come tutti sapete a noi donne piace fare shopping come possiamo vedere dal prossimo servizio la denise card è andata a ruba sembrerebbe che negli ultimi giorni ci sia stato un assalto feroce sia da primark e nei centri commerciali di tutta italia ma diamo la linea alla nostra inviata grazie laura ci è arrivata una notizia dell'ultima ora i nostri paparazzi hanno paparazzato il bombonsito con la sua ultima conquista a cui ha consegnato la denise card nel chiudere questa edizione straordinaria del tgx spettegules vi ricordiamo che la denise card è un'edizione limitata quindi affrettatevi a prenotarla per il tgx spettegules è tutto vi diamo appuntamento alla prossima edizione grazie per l'ascolto